Ci piace quando la gente ci ascolta e se io dico non costruire le robe qua, porca miseria, tu non costruisci robe là, ok? Molto bene. E c'è la Dimitra di Dexonville, credo che la mod questa del miglioramento, le stazioni scine, eh? Cosa? C'è una bambola di qualche tipo? Tutto sto casino? Abbiamo sto spazio? A me piacciono le curve a 80 all'ora, ma anche un po' più piano onestamente, se no non vedi niente. Prima ci attendono altre partite importanti e ci attende la vittoria, la vittoria ci attende. Ciao. Quindi a Giovannino gli mettiamo un asciugamano in testa, le barelle le abbiamo in giro per l'ospedale, perché a quanto pare sono molto importanti le barelle. Io le sottosviluppavo, sottostimavo, sottointploravo e si esce sempre da qualche parte. L'importante, signori, è entrare, ok? Bisogna entrare. Poi, non pensate a uscire perché si esce sempre da qualche parte. Dai, cazzo! Dai, Giovannino! Non mollarmi adesso, Giovannino! Vediamo come se la cava. Se non se la cava, miniera. Ops, penso di aver colpito uno dei miei, ma fa stesso, ne amiche, insomma, succede un po' di tutto. Sì, posso abbassarlo ulteriormente. Io volevo, tipo, tirarli o in su, ma a quanto pare non sono bravo a tirar su cose, signori. Grabban, glielo ha mette lì e si inizia. Quarto minuto, subito. Molto bene! Orco, cazzo, Giovannino se l'è presa in testa la piccozza. Facciamo una piccola pausa dalle nostre construction di Bully. Che non puoi dirmi di sì. Non puoi dirmi di no. Mike, qua l'unico che non ha cantato sei tu. Pino ha cantato e quando ha finito ha dipinto di azzurro il microfono. Che non puoi dirmi così, Mike, che mi offendi. Vediamo, Salinas e Urbana e Salinas vanno, ok, Salinas, ok, Salinas. Bene, mi sembra tutto chiaro. Cercherò di andare a questa parte dove c'è Iaculan, una città che si chiama Iaculan. Ci può solo piacere. I vicini c'hanno l'erba, voi invece c'avete l'erba in strada. State attenti però ad andare a parpascolare il cane, perché se passa il tram, finisce male. Oh, ai, 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 che colpo diretta in testa. Pausa, pausa. Ok, riprendiamo, va bene, avanti popolo. Che colpa ne ho io se il rumore viene da te quando fai le puzzette di notte. Ok, tagliamo questa parte, grazie. Dov'è che devo andare questo? Oh, avrò una fermata lì e una fermata là. Ma che cazzo è che mi chiama Madonnina Santa? Io non voglio rispondere a telefonate di gente sconosciuta. Che la gente sconosciuta è malvagia. Quindi, chiudiamo questa roba?